Un tour per i bambini di Taranto in bicicletta, un'iniziativa benefica pensata da Giuseppe Russo per portare solidarietà e aiuto concreto ai bambini del reparto di encomatologia pediatrica di Taranto dell'ospedale Santa Annunziata, un reparto realizzato da tutti gli amici del mini bar di Taranto dall'associazione Arcobalino nel Cuore che ha avuto come madrina la giornalista delle Iene prematuramente scomparsa Nadia Toffa. Un tour che ha toccato pure l'aquila. Giuseppe Russo è arrivato in città ed è stato ricevuto dall'assessore comunale alle politiche sociali Francesco Bignotti e da Donquande di Osvanegas, parroco della parrocchia di Santa Giusta in Sassa che ha accolto Giuseppe con i ragazzi di Punto Luce, struttura che si trova a Sassa che fa molte iniziative per i giovani. Giuseppe è un giovane di Taranto che in sella alla sua bici raccoglie aiuti per i bambini. Anche lui, come tanti giovani, ha lavorato nell'ilba di Taranto con l'aiuto di Nadia Toffa nel tempo, i problemi di Taranto sono emersi in tutta la loro drammaticità ed è cresciuto questo percorso che continua anche senza di lei per aiutare i più piccoli e le loro famiglie.